Si trovava con Sara nella villeta di Cesa, quel drammatico giorno in cui la giovane perse la vita. Adesso è finito in manette ad arrestarlo i carabinieri di Pisa. Si chiama Muezza Jebili, tunisino. Per lui l'accusa di morte in conseguenza ad un altro reato e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era scomparso nel nulla assieme ad un amico magrebino dopo la morte della giovane. La ragazza di Sansepolcro di origini marocchine era stata ritrovata senza vita seminuda all'interno della villetta in Valdichiana lo scorso 11 marzo, stroncata da un cocktail micidiale di droghe ed antidepressivi. Con lei quella notte i due magrebini sui quali si erano immediatamente concentrate le indagini dei militari. Ad indagare sulla vicenda dal giorno della morte il PM Angela Masiello, nei confronti del magrebino il GIP Pier Giorgio Ponticelli aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare il 6 novembre scorso. I due erano stati inseriti nella banca dati nazionale e Moiz J. Billy è stato rintracciato così dai carabinieri di Pisa. Conosciuto come bimba, era noto negli ambienti dello spaccio di stupefacenti e retini e da tempo era ricercato. L'uomo adesso sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzie e potrà raccontare la sua versione dei fatti. Per lui potrebbe profilarsi anche l'accusa di omissione e di soccorso. Non è stato invece ancora ritrovato l'altro magrebino soprannominato Yaya. Anche lui si trovava con Sara nelle ore precedenti alla sua morte.